Roberto Giacomini è uno degli organizzatori della mostra su Madre Teresa di Calcutta nel quadro della festa patronale qui a Omenia. Come mai una mostra su Madre Teresa a Omenia? Ormai da qualche anno nell'ambito della festa dell'Oratorio Sacro Cuore abbiamo un momento culturale che quest'anno abbiamo voluto dedicare proprio a un grande personaggio come Madre Teresa per farlo conoscere un po' di più alla gente, quello che ha fatto lei e quello che fanno le suore tramite lei. E per questo abbiamo voluto per questa presentazione l'intervento autorevole della dottoressa Paola Bergamini che ci ha portato una testimonianza molto bella e viva e che ci ha fatto entrare proprio nel clima del giusto per la mostra su Madre Teresa. Il suo rapporto con Madre Teresa? Il suo rapporto con Madre Teresa è nato attraverso le sue suore, perché per lavoro ho avuto a che fare con loro e le ho conosciute, ho potuto stare con loro e stando con loro vedi l'attualità di Madre Teresa, che cosa vuol dire amare i poveri, che cosa vuol dire amare Cristo. Loro amano Cristo nel povero e che tu stando con loro te ne rende più, lo vedi in modo lampante, che non è nient'altro che le muove se non questa passione per l'uomo, questa passione per il mondo.